Ciao Lucine! Oggi andremo a realizzare insieme la mia canotta Jackie, veramente molto molto carina e molto molto anni 50-60. Per questo motivo ho voluto chiamarla Jackie, molto in stile Kennedy. Ho utilizzato per il mio progetto un uncinetto numero 3,5 e 400 grammi di filato Cotton Queen. Vi lascerò il link in descrizione, vi lascerò anche il link in descrizione di Merceria Italia Artisan dove io ho acquistato il mio filato. Vi assicuro è un filato molto bello, lo troverete anche in altre colorazioni. Io ho voluto realizzare la mia maglia in celeste e bianco a contrasto. Quindi vedete, da un lato ho fatto lo sprone bianco e la lunghezza celeste e viceversa dall'altro. Nel caso vogliate farlo anche voi bicolor, saranno 200 grammi di un colore e 200 nell'altro. Se invece volete fare la tinta unita, 400 grammi di un unico colore saranno più che sufficienti per una taglia M barra L. Ecco, una M morbida. Io non ho altro da aggiungere, vi lascio al tutorial. A dopo! Per il nostro pannello useremo un uncinetto del numero 3,5 e partiremo con un anellino magico. In questo modo. Ecco qui. Fermato il nostro anellino magico faremo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carichiamo il filo e ne facciamo una seconda. 3 catenelle, di nuovo 2 maglie alte in mezzo al nostro anellino magico. Stringiamo un attimino se ci dà fastidio la larghezza, di nuovo 3 catenelle. Nuovamente 2 maglie alte. Siamo a 3 moduli. Ora altre 3 catenelle e andiamo a fare gli ultimi due, sempre nell'anellino magico. 1 e 2. Stringiamo il nostro anellino. In questo modo facciamo 3 catenelle. ed andiamo a fermare con una maglia bassissima le nostre 3 catenelle nella terza catenella di inizio giro. Quindi 1, 2, 3, entriamo e facciamo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo finito il nostro primo giro. Aspettate che ho il filo. Ci alziamo per il nostro secondo giro con 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle. Andiamo a lavorare sulla maglia alta successiva con una maglia alta. E' un po' stretto. Ecco qui. 2. Ora entriamo nello spazietto e facciamo 2 maglie alte. 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. 1 e 2. E abbiamo creato di nuovo l'angolo. Ora lavoriamo sulle 2 maglie basse sottostanti. 1 maglia alta. E sulla prossima una maglia alta. Di nuovo all'interno del nostro archettino facciamo 2 maglie alte. 3 catenelle. E di nuovo 2 maglie alte. 1 e 2. Nuovamente lavoriamo le maglie sul lato. Quindi 1 e 2. Di nuovo. Un altro angolo. Quindi 2 maglie alte. 3 catenelle. E 2 maglie alte. 1 e 2. Andiamo a lavorare l'ultimo lato. Quindi con 2 maglie alte. Sulle 2 maglie alte sottostanti. Quindi 1 e 1. Facciamo l'ultimo angolo. 1 e 2 maglie alte. 1 e 2 maglie alte. 1 e 2 maglie alte. E nuovamente 2 maglie alte. 1 e 2. Ora senza fare nessunissima catenella perché siamo sul lato. Ci congiungiamo sulla terza catenella di inizio giro. In questo modo. Come vedete abbiamo creato il nostro quadratino. Ora andiamo a fare il nostro prossimo giro. Ci alziamo con 3 catenelle. Per non far vedere lo stacco tra le 3 catenelle e la prossima maglia. Carichiamo ed entriamo ben ben vicino. In questo modo. Dopodiché lavoriamo tutte le maglie sottostanti. in questo modo. E ci ritroviamo all'angolo dove lavoreremo ancora. 2 maglie alte. Mi è sfuggito. 3 catenelle. E 2 maglie alte. Ora contiamo le maglie sottostanti. E' molto importante. Ne abbiamo 6. Con queste che io andrò a fare. Diventerebbero 8. Anzi forse anche di più. Vediamo. Una volta lavorate diventeranno 10. Noi ogni 6 maglie. Dobbiamo avere un foro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo lavorato queste due maglie. Facciamo 2 catenelle. Saltiamo 2 maglie sottostanti. E sulla terza andiamo a lavorare una maglia alta. Vi sarà più chiaro al termine di questo giro. Vado a lavorare tutte le maglie così come si presentano. 2 3 Ora Scusate problemi col filo. Vado a fare il mio angolo. Quindi 2 maglie alte. 3 catenelle. 2 maglie alte. Adesso vi faccio vedere cosa è accaduto. Vedete? Allora questo è l'angolo. E non lo contiamo come foro l'angolo. È normale che abbia il forellino e l'archetto. Però vedete che tra queste due maglie lo appoggio. Col fondo bianco si vede meglio. Tra queste due maglie e il prossimo forellino dell'angolo ci sono 6 maglie. Noi dovremmo avere sempre solo 6 maglie alte vicine con prima e dopo un forellino. Quindi ora nuovamente abbiamo fatto l'angolo siccome abbiamo 6 maglie alte qui sotto dobbiamo partire con un foro. Quindi facciamo 2 catenelle saltiamo 2 maglie sottostanti e nella terza iniziamo a lavorare il nostro lato. quindi 2 3 sono 4 e 2 appartengono all'angolo quindi 1 2 faccio 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte 1 e 2 vedete? se io vado metto giù il lavoro così lo vedete bene su base bianca tra questo foro e questo foro ci sono 6 maglie alte tra questo foro e questo foro ci sono 6 maglie alte e così dovrà sempre essere tra un foro e un altro foro ci dovranno sempre essere 6 maglie alte ovviamente senza contare l'angolo che precede l'inizio del lato quindi questo viene considerato da questa parte come angolo mentre di qua viene considerato foro normalissimo vedete? da questo lato è considerato foro da questo lato è considerato angolo quindi dovremo partire con 2 maglie adesso andando avanti vi faccio vedere proprio bene bene come funziona perché così può sembrare un po' strano quindi ho fatto 2 le 2 maglie nell'angolo faccio 2 catenelle salto 2 maglie sottostanti inizio a fare le mie 6 maglie una 2 mi sono ecco 3 4 e ovviamente 5 e 6 faranno parte dell'angolo 5 e 6 che sono le 2 dell'angolo 3 catenelle e di nuovo 2 2 maglie alte 2 maglie alte all'interno dell'angolo ora guardate cosa succede dobbiamo chiudere il giro il giro lo chiuderemo sempre con 2 catenelle perché dobbiamo andare a creare il forellino prima delle 6 maglie alte quindi farò 2 catenelle e andrò a congiungermi sulla terza catenella di inizio giro prendetela bene sennò vi rimane il buco ecco qua scusatemi è scivolato ecco qui voilà io ho chiuso vedete che non si vede niente ora siccome qui ho 6 maglie sempre sulle prime 2 maglie sottostanti va fatto il foro quindi sempre dovremo camminare per 2 maglie a inizio giro chiuderemo sempre con 2 catenelle inizieremo sempre con 2 maglie bassissime ecco qua una e due mi raccomando quando fate le maglie bassissime entrati nella maglia e non nella catenella altrimenti vi rimane troppo spazio tra la prima e l'ultima quindi partiamo con 3 catenelle in questo modo e andiamo a lavorarle tutte 2 3 4 e 2 maglie appartengono all'angolo 1 e 2 3 catenelle e di nuovo 2 maglie nell'angolo 1 e 2 1 3 3 4 e ne costruisco 2 sul buco sottostante 5 e 6 siccome qui ho sei maglie qua ci vuole un buchino quindi sulle prime due maglie della sequenza da 6 vanno sempre saltate le prime due quindi una due catenelle salto 2 maglie sottostanti e vado a lavorare 1 2 3 4 e nell'angolo la quinta e la sesta 3 catenelle e tutti i lati saranno lavorati uguali quindi vado a fare le mie due maglie nell'angolo scusate ogni tanto prendo male il filo una e due maglie nell'angolo e le fatto lavorare tutte fino a lavorare anche quelle nel foro quindi 3 4 5 e 6 sotto o una sequenza da 6 maglie alte quindi le prime due le dovrò saltare due catenelle salto le prime due e ricomincio quindi capito questo io direi che finisco il giro da sola e ci rivediamo ovviamente per l'inizio del prossimo giro sono arrivata alla fine del giro e ho fatto anche le ultime due maglie nello spazietto sotto perché quando abbiamo lo spazietto sotto dobbiamo sempre lavorarci dentro perché ogni spazietto si deve spostare sempre di due maglie quindi cosa faccio ho lavorato il mio spazietto e concluderò sempre tutti i giri con due catenelle perché ovviamente dobbiamo creare lo spazietto nelle prime due maglie del giro sotto vado nella terza catenella d'inizio controllate bene quale la terza ecco qua centro e faccio una maglia bassissima vedete abbiamo creato il nostro forellino che prima era qui adesso si sposta qui e nel prossimo giro si sposterà qui adesso lo facciamo insieme vi faccio vedere ancora un giro perché così si capisce meglio quindi camminiamo sulle prossime due maglie entrando non dalla catenella ma prendendo tutta la maglia vedete qui in questo forellino quindi la prendo tutta la prossima la prendo tutta quindi non nella catenella ma nel forelli non mi raccomando perché così rimangono più vicine le maglie e non si vede la partenza 123 catenelle lavoro tutte le maglie sottostanti fino ad arrivare all'angolo e sarà sempre così la partenza perché anche se la piastrella si ingrandirà noi andremo sempre a a chiudere nello stesso punto allora facciamo le due maglie 3 catenelle 2 maglie nell'angolo 3 catenelle e 2 maglie nell'angolo adesso vi faccio vedere vedete che io sotto ho già sei maglie alte quindi le prime due delle sei maglie alti io le devo sempre saltare quindi faccio due catenelle salto le prime due maglie alte inizio a lavorare tranquillamente fino a lavorare il prossimo foro i 2 3 4 vedete le ultime due le mettono il forellino 1 e 2 se contate le maglie sono 6 2 4 e 6 quindi adesso io cosa faccio devo fare le due catenelle per saltare le due maglie di nuovo 2 catenelle salto le 2 maglie sottostanti e riprendo a lavorare esattamente così come mi si presenta il lavoro ecco qui ora io vado avanti un pezzettino da sola mi faccio vedere l'ultima chiusura giro e magari un lato così da farvi vedere come si prosegue ma da qui in poi vi assicuro che la lavorazione è sempre la stessa eccoci qui siamo arrivati alla fine io ho già lavorato dentro le due catenelle sottostanti vado a fare le mie due catenelle una e due per creare il forellino e nella terza maglia di inizio giro vado a fare una maglia bassissima ecco qua cammino nelle prossime due maglie fino arrivare alla terza una e due così le scavaliamo ecco qua quindi passi basso vedete sulla terza la quarta la quinta eccola qua quindi vado a fare 3 catenelle e di nuovo scusate eccoci qua vado a fare le mie 6 maglie alte 4 sul lato e 2 prese dall'angolo 2 allora 4 e 2 le faccio nell'angolo ovviamente vedete qui 1 2 3 catenelle e di nuovo 2 1 e di nuovo 2 ora guardate bene sotto vedete io ne ho due non ne ho sei quindi vado a lavorarle vado a lavorarle fino al prossimo buchino perché in quel momento diventeranno 6 sopra 1 2 4 e 6 quindi vado a lavorarle quindi vado a fare la terza la quarta la quinta e la sesta ora io ho il gruppo da 6 le prime due si saltano quindi 2 catenelle ne salto 2 e vado a lavorare le prossime 4 più 2 nello spazio 2 3 4 e 2 nello spazio 1 e 2 e sono 6 ora salto sempre le prime due sottostanti dopo lo spazio con due catenelle e vado a lavorare quindi salto questa questa vado a lavorare le prossime quindi la sequenza è sempre la stessa e due nell'angolo ecco qui la nostra piastrella si ingrandisce man mano che si ingrandirà il disegno si vedrà sempre di più quindi dovete andare avanti fino a raggiungere la vostra larghezza torace in pratica dovete calcolare la circonferenza della vostra zona più ampia potrebbe essere il sedere il seno calcolate la circonferenza misurate la circonferenza e la dividete a metà perché essendo un lavoro a pannello abbiamo metà sul davanti e metà circonferenza sul retro tenetela un pochino abbondante perché potrebbe essere che con la cucitura perdete quel mezzo centimetro quindi tenetela un attimino più abbondante andate avanti fino a raggiungere i giri che vi occorrono proprio per questa misura quindi quando avrete la larghezza desiderata mi fermate e poi proseguiamo insieme ecco qua io ho realizzato vedete che bello il disegno per il mio pannello 26 giri ovviamente i giri di lavorazione dipenderanno dalla taglia che voi vorrete realizzare in descrizione vi lascerò tutte le info sulle misure del mio pannello non sto adesso a dirle qua perché poi ve le perdete quindi vi lascio tutte le info nella descrizione sulla larghezza del mio pannello e poi tutte le misure della maglia finita ovviamente per la mia taglia che è una m barra l ne vedete che il pannello veramente molto bello io quindi procedo adesso al cambio colore ma il punto che andiamo ad utilizzare vi dico che è di un multiplo a un multiplo di 4 più 2 catenelle quindi io per lasciare un pochino di scalfo vi dico già che la misura perfetta è sempre da foro a foro quindi potete partire da questo foro oppure se volete fare più stretto potete partire dall'altro foro comunque il punto va iniziato sempre dentro a un foro e poi lavorato fino ovviamente al foro corrispettivo dall'altra parte quindi anche se cambiate la taglia filato o qualsiasi cosa siccome il numero di maglie è perfetto per il multiplo di 4 più 2 voi dovrete comunque lavorare da foro a foro dall'altra parte quindi se non volete lasciare lo scalfo non c'è problema lavorate anche i due angolini come se fossero fori normalissimi quindi ora cosa facciamo io ovviamente uso un colore diverso perché volevo lo sprone diciamo a contrasto e vado a partire da questo foro quindi il secondo foro entrano nel foro metto il mio cappietto lo porto all'interno e faccio ecco qua una catenella dopodiché vado a farne 1 2 e 3 catenelle scusate quel pannello grosso faccio fatica e vado a fare la seconda maglia alta all'interno del foro quindi così la prima ovviamente sostituita dalle 3 catenelle faccio 2 catenelle carico filo salto 2 maglie sottostanti nella terza vado a fare una maglia alta tutto molto morbido ecco quindi salto 2 maglie nella terza maglia alta nella quarta maglia alta 2 catenelle salto 2 maglie sottostanti vado a lavorare nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle salto 2 maglie lavoro la terza e la quarta 2 catenelle salto 2 maglie e nel foro vado a lavorare la terza la terza e la quarta vado a lavorare due maglie ogni tanto mi confondo quindi 2 catenelle salto 2 maglie maglia alta maglia alta 2 catenelle di nuovo salto 2 maglie e nel foro 2 maglie alte 1 e 2 e continuiamo così vedete io lavoro foro le due centrali foro e sempre così fino ad arrivare ovviamente a al penultimo foro da questo lato quindi questo perché questo è il foro finale che è anche il nostro angolo quindi procedo proprio fino a questo forellino ecco qui al termine del giro che cosa avremo vedete abbiamo finito con due maglie alte nel foro nel penultimo perché poi qua c'è l'angolo e iniziando da questo benissimo ora lavoreremo né più né meno la stessa sequenza ma un giro di maglia bassa quindi iniziamo da qui facciamo una catenella e voltiamo il nostro lavoro iniziate sempre con la maglia alta sul dritto del lavoro così da avere una lavorazione bella da vedere in entrambi i lati quindi ho fatto una catenella sulla prima maglia alta lavoro una maglia bassa sulla seconda maglia alta lavoro una maglia bassa 2 catenelle e ripeto quindi scusate sulla maglia bassa maglia alta lavoro la maglia bassa sulla seconda lavoro una maglia bassa 2 catenelle di nuovo salto le catenelle vado sulla prima maglia alta lavoro una maglia bassa sulla seconda lavoro una maglia bassa 2 catenelle di nuovo prossima maglia alta lavoro una maglia bassa di nuovo sulla maglia a fianco una maglia bassa di nuovo 2 catenelle maglia alta maglia bassa sulla maglia alta maglia bassa sulle catenelle le catenelle vedete abbiamo la stessa sequenza ma ripetuta una giro a maglia alta e un giro a maglia bassa vi tirerà un pochino perché la lavorazione a catenelle di solito sulle maglie alte tira un pochino è per quello che non ho fatto le diminuzioni sugli scalfi andando ad arrotondare perché già tirava così e avevo paura che poi venisse troppo stretto davanti e quindi lasciasse scoperte lasciasse troppo scoperto il laterale ovviamente dipende dalle vostre misure dove andrete ad agganciare le vostre maglie però così mi sembrava perfetto io procedo fino al termine del giro vi faccio vedere l'inizio del giro successivo dopodiché dovrete andare avanti fino all'altezza dello scalfo ecco qua finito anche questo giro di lavorazione vedete sembra quasi che sia questa catenella un po più spessa in realtà se voi guardate bene le catenelle ovviamente sono due una sopra l'altra ed è molto molto carino questo punto non ne conosco il nome l'ho trovato ovviamente sempre online ed è molto molto bello quindi arrivati alla fine facciamo questa volta 3 catenelle perché dobbiamo iniziare il giro con le maglie alte quindi 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta voltiamo il lavoro poi andremo a fermare tutti i nostri figli e mi raccomando carichiamo e sulla seconda maglia bassa andiamo a fare una maglia alta e sulla prossima maglia bassa di nuovo una maglia alta 2 catenelle vedete sempre maglie su maglie e catenelle su catenelle alternando un giro a maglia alta e un giro a maglia bassa vedete viene così continuiamo così fino al termine del giro come potete vedere io di pannelli ne ho fatti due a contrasto quindi il pannello che ho fatto pardon il pannello che io ho realizzato in bianco a la rifinitura dello sprone in azzurro e viceversa quindi l'altro che è azzurro ha lo sprone bianco voi potete alternare i colori come volete potete anche lavorarlo in tinta unita è sempre una questione di gusti in ultimo ho rifinito con tutto un giro di maglia alta quindi semplicemente ho lavorato maglie alte su maglie alte e maglie alte nei fori quindi sono andata a riempimento vedete perché così mi sarà più facile cucire il davanti al retro non credo che rifinirò i laterali perché come vedete questo punto è molto ben definito lateralmente quindi non c'è bisogno di una rifinitura e anche il pannello sotto essendo a maglia alta è molto ben rifinito quindi una volta fatti i nostri pannelli da 27 giri per la mia taglia e per il mio filato e il mio uncinetto ovviamente a voi potrebbero volercene di più o di meno a seconda della taglia e una volta fatto all'altezza vedete questo è lo scalfo manica e questo è l'altezza chiamiamolo carr e chiamiamolo sprone chiamatelo come meglio credete comunque questa è la parte alta che poi formerà il nostro collo barchetta ora andremo a cucire insieme il laterale a maglia bassa e sulla spalla sempre a maglia bassa col lavoro al rovescio ecco qualcosa avremo al termine della nostra lavorazione come potete vedere io ho già unito le spalle e ho già unito un laterale ora vi faccio vedere come fare la cucitura ad uncinetto a maglia bassa e dal rovescio vedete che bella che è venuta molto molto bella qui prendiamo la nostra le nostre due parti e le andiamo appoggiare con il dritto all'interno quindi nel primo pannello dovremo avere il dritto verso di noi del secondo pannello dovremo avere il rovescio verso di noi quindi di modo che il dritto combaci all'interno della lavorazione ci mettiamo nel punto che ecco qua da questo lato giriamo il nostro lavoro e decidiamo come cucire io da questo lato ho lasciato liberi 1 2 3 4 e sono partita dal quinto foro a cucire perché volevo lo spacchetto quindi anche da questo lato farò la stessa cosa prenderò il mio uncinetto lo stesso che ho usato per la lavorazione vado a fare il mio cappiettino mobile stringo un attimino lo lascio libero quindi faccio combaciare le due parti e vado a contare i fori che voglio lasciare liberi quindi uno prendendo tutte e due le parti 2 3 4 e parto dal quinto quindi mi infilo metto il cappietto stringo e porto il filo fuori dai miei fori faccio una catenella rientro che faccio la seconda che equivale al secondo punto basso nel frattempo se riusciamo andiamo a nascondere il filo ora come potete vedere andrò a prendere state sempre attente alla prima verso di voi perché rimane un po nascosta dal nodino quindi vado a prendere questa costina qui interna in questo modo e dall'altro dall'altro lato sempre quella interna in questo modo passo col filo in questo modo e faccio una maglia bassa cucirò a maglia bassa semplicemente perché la maglia bassa rimane più morbida della maglia bassissima quindi vado a prendere la prossima maglia sempre dentro la successiva sempre dentro porto fuori il filo e concludo la maglia bassa nuovamente sempre in questo modo sempre in questo modo porto fuori il filo ecco qua quindi le lavoriamo tutte vedete molto semplice fino ad arrivare al prossimo foro contiamo che siano giuste quindi devono essere quante ne abbiamo lavorate se ci sono sei maglie tra un foro e l'altro contiamo che siano giuste in questo modo la nostra cucitura rimarrà molto discreta vedete andiamo a prendere l'ultima dentro dentro facciamo la maglia bassa ed ora lavoriamo le prossime due maglie semplicemente nel foro una e due in questo modo ricominciamo vedete la prima rimane un po nascosta per quello che vi ho detto controllate bene la prima dopo il foro rimane un po nascosta è qua eccola qui l'ho presa vado a prendere la seconda in questo modo tiro fuori il filo e faccio la maglia bassa di nuovo questa è questa filo ecco qua questa è questa sempre le due interne sempre maglia bassa non fate la maglia bassissima perché è vero che rimane più piatta ma è meno flessibile vi rimane tutto tirato quindi questa è questa e maglia bassa scusate intanto mi sto spostando questa è questa sono di nuovo arrivata una e due quindi continuiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo finale all'angolo finale ne facciamo due e abbiamo praticamente finito questa cucitura stacchiamo il filo lo nascondiamo cuciremo allo stesso modo vedete anche la spallina quindi deciderete l'apertura del vostro collo quanto la volete ampia e andrete a contare le maglie e unirete solo quelle vedete al dritto com'è pulita la cucitura molto molto pulita quindi vi consiglio di farla allo stesso modo io in questo momento proseguo quindi nuovamente vi faccio vedere la prima rimane un po nascosta prendetela bene ecco qua maglia bassa la seconda si vede meglio maglia bassa la terza ecco qua sempre quella interna maglia bassa la quarta sempre prendendo ecco qua maglia bassa la quinta se le contate è più facile perché sapete esattamente se le state facendo giusto oppure no ho tirato un filo quindi rientro e riprendo e quindi andiamo a fare la sesta in questo modo maglia bassa di nuovo entro in tutto e faccio il nodino questo nodino vi dà modo da avere vedete dal dritto l'impunturina al centro del vostro lavoro guardate che carino che viene proprio questo puntino qua e la cucitura è molto pulita vedete quindi proseguiamo così fino ad arrivare alla fine del nostro fianco cuciamo anche l'altro che io in questo caso già cucito e poi appunto la spallina e ci rivediamo per i saluti perché abbiamo finito la nostra maglia ecco qua finita la nostra jackie guardate veramente molto bella io non ho rifinito né questo lato né questo lato perché come potete vedere è molto pulito il laterale quindi ho ritenuto di non doverlo rifinire la maglia in sé veramente molto bella e molto curata vedete poi io ho fatto il contrasto dal dietro al davanti voi ovviamente potete scegliere il gioco di colori che volete oppure farlo assolutamente tinta unita io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto sia se avete qualche dubbio o qualche perplessità naturalmente potete scrivere qui sotto le vostre domande quindi scrivermi nei messaggi le vostre domande oppure potete trovarmi sul gruppo facebook creando e chiacchierando con luci pucci e danni mi trovate anche su instagram come creando con luci oppure mi potete contattare in messenger io vi do appuntamento al prossimo video tutorial ciao a presto da luci ciao